Marco ci hai smutati? Vedi un po'? Sei buono? Non lo so io Sei diventato uno streamer adesso Vedi un po'? Cosa vedi? Dimmi te! Once again! Ostia che botta Signor Warrior subito Ciao Warrior e grazie! Grazie persone ciao buona mattina Ostia che botta Signor Warrior e tu Di Marco Profittiamone Da ringraziare Gene Rickman Silvermind E Agilu Ah già fammi aprire il programmino Anche a me che non ce l'ho per Erano gli ultimi tre da ringraziare Eh sì Grazie Michel Grazie 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 Avete visto il video in anteprima ieri sera? Eh sì Eh senza spoiler Ti piaciuto il video in anteprima di ieri sera? In anteprima di anteprima Ma soprattutto non mi vergognate Che il video dei Magali Nudi sta facendo Già 14.000 video adesso Non mi vergognare Schifo mano Ehm Aspettiamo uno di Guarda a te la Gay Games che miciula i soldi Ma cosa significa pesca strascico? Eh Che cosa significa Eh Non mi vuoi pescare finché non hai la carta giusta No sì abbiamo messo altre impostazioni che ricordavamo noi Oh che cosa No ma non l'abbiamo tolta quella cosa lì Ma che bello S'ho diventato un disegno su Instagram Che beccasso Un disegno su Instagram Fammi vedere Come non ti è arrivato Ma è arrivato tutti Non può non arrivare Cosa? Il video è arrivato tutti È automatico Non è che non mi diamo mano a uno uno A meno che non ti sei sciubbato Dopo ieri Unouğelle Mixed L adding Allora Oh è uno dei due che entri User joins Ora venite giù È vero Ah non siamo i streaming Non so io User left or channel User left or channel Channel switch User joins breviat Dai strict Dai User joins networks Ma si dai Si vuole Dai Puoi entra Gatto User joins кую Facciamo una partita per un non vado via, per sempre una partita per uno, hai visto? che simpatico Moro che ridere cacchio allora Roby appena entri nella partita devi abbassare subito il game del microfono si perchè se no muoriamo tutti se no si muore aprilo subito attimo che sta aprendo Uplay intanto parliamo con la chat perchè se no è un cazzo ma sapete cosa? io non avrei problemi di tutto tipo sapete perchè? perchè il mio microfono è sempre caccio al massimo che vergogna perchè così non ho problemi di questi cosi non ho problemi che mi si alzano ma se mette al massimo in auto mi si risponde l'orecchia a voi se io lo metto al massimo mi sentite anche quello di fronte alla strada basta mettere poi il game buono eh ma è quello che non ce l'abbiamo il game al microfono noi non ce l'abbiamo noi il microfono non il game del microfono allora quale? quello del mixer intendi? no l'activate ma cosa c'entra? perchè poi quando parlo sentite anche quello che succede nell'altra nell'altro palazzo si sente la stanza aumentando il game e che già adesso si sente per dire no se tu che fai schifo c'è il microfono di merda e poi ma si ma i microfoni di merda appunto erano così al 100% grandi successi buono in auto la live i not more chi gioca? no in auto puoi guardarla è buono in auto puoi guardare ok questa musica jazz eh aspetta guarda io non la guardo ma proprio perché mi fai schifo eh comunque a me fa schifo no no ma anche se non stream a lui non guardo comunque e tu ti va a sapere gatto hai presente quando ti dicevo è partita l'installazione di visual studio 2015? si non ha finito ancora non ha ancora finito non avevo dubbi perchè hai trovato visual studio in 8? per unreal ah sei avuto visual studio? ottimo a saperci male di aero già sta giocando a froppo non è normale oh mio dio qui in 8 si dove puoi installarsi partiamo adesso eh? provalo a chiuderlo e a riapparirlo no ma aspetta la partita vuoi intanto? no no vabbè se intanto vuoi entrare il gatto intanto che a te ti partorisce aspetta eh adesso è venuto fuori scritto che stai giocando a uno non ho capito che cazzo eh che cazzo devo aprire per giocare a uno? uno che cazzo devi aprire? eh no è che devo usare Steam che poi mi ha play ma è uguale ah Uplay ce l'ha? eh ce l'hai si che ce l'hai su Uplay su Uplay e comunque inizia con una città ah Uplay ce l'ha eh poi vai a quel Uplay ancolo qua allora tu ma da me difficile iniziare esatto e tanto per riallacciarsi insomma Они fai fanmi domani vai a i Uplay che tra l'altro mi suba così che hai ucchio eh sì PORCA SULTAN come iniziare PORCA VACCA domani non mi sapete che tra l'altro mi suba così che hai ucchio se rimetto sempre io PORCA SULTAN In verità ho già in mente cosa farvi fare Sì, stavo risentendo la live per vedere se sentiva bene Non l'invito, per ora, gatto Stai sistemando tu Marco lì, no? Sì, stavo risentendo un attimo la live per capire il volume Parapara, parapara Cosa? È Mordoc Faccio un incaricamento Che dona 3.16 e dice È l'intro di Stone Cold anche stamattina Grazie mille per questa splendida mattinata a termos Come mi sentite? È Mordoc Comunque Roby, guarda Tu fai prima a disinstallarlo o a reinstallarlo Probabilmente Guarda lo gatto che si sente Quanto clicca Sto sparando Adagio Ecco qua Stiamo partendo Io tengo il microfono a 65 o a 75 Normalmente Io sono a 55 Inizia creando Semplicemente una piccola città E cerca di gettire quello Poi Io c'ho Globox Ah guarda Che carte Che carte che c'ho Vi faccio vedere io Quello Quello è di Raiman Sì Eh non lo sappiamo Puoi streamarlo a 4k a sto gioco È bellissimo 60 frame Io sono il change Quelli che magari non servono Io sono il change del gruppo Guarda change Ma perché ho pescato una carta? Ho sbaglio perché sto giocando col pad Vuoi rifare il trick? E non posso più perché mi hai messo Ma perché sto col pad a uno? Vabbè dai Non so perché Stai giocando? Stai giocando? No silenzio Ma non facendo stiamo Cos'è? Si sta giocando Arriva lui e arriva Ah no è Moro Io contesteremo Contesta Moro contesto Che inculata Che inculata Ok ci sono Ti e Morelli Ma io devo pure pescare Fa un culo Fa un culo a voi Ti lascio il turno poi Roby Carino Anche perché sono l'unico dei termosifoni Non dei termosifoni canale Non mi funziona No è crashato Inizia Non sono crashato Non sono Ma sì che sarà crashato Da te che palle Marco quanto fa auto meno 2? Il pad della Play 4 Con quello della One Quello della One Me l'ha messo nel culo Perché non funzionava Adesso faccio i macelli Faccio i macelli adesso Ma fa che giochi E ha pescato infatti Vabbè non ti preoccupare Ma scusa Perché la X Perché la X E la B Ma non posso Imbecille coglione Non posso Eh sì Cosa ha detto Maiale Non ho idea E' da ficchi di jeppe nel culo E' da ficchi di jeppe nel culo E' il letto stretto Ok i tasti sono sbagliati Contestagli Non contestare Che ho sbagliato Tutto il testo E' da tantissimo Lezzaro Roca miseria Nooo Le coglione Che inculata Che inculata C'è un più 4 ancora Occhio Eeeh Rocavacca Come c'è un altro più 4? E' un altro più 4? Occhio tu comunque E' proprio a Marco Che stanno dicendo qua Io ogni tanto sento perruzzare il Jezzaro Non so se sono io E' tu Eh probabilmente non ha sistemato proprio bene il game Zero Uno Io c'ho 46 carte Uno Bruno Uno Eh mostri Adesso voglio vedervi a voi lì tutti duri Ho pure pescato Vinco io qua E invece non vinci E invece non vinci Che disgraziato che è questa persona E non contestare però No rinuncio Frega niente Non è caduto nel mio blef Allora io butto questa Allora che vuol dire quando contesta Semplicemente il più 4 Non puoi usarlo se tu hai una carta giocabile Gatto ha detto uno Guarda ha fatto Bruno Guarda ha fatto Bruno Solo se non hai niente da giocare Gatto ha detto Bruno L'ho detto Ma Gatto ha detto Bruno L'ho detto Lo disse Non saprete mai che colore ho Ma perché a me? Ah no è cambiato il colore Ho letto il più 4 Scusa hai messo lo stesso colore che c'era? Sei stupido Sei risgraziato No l'ho fatto al posto Bastardo Sì ho capito E ho vinto Parca miseria Sempre Moro Sempre Moro Sempre Moro Merda merda che sei Ma che stronzo Merda vinto da vincitore Lasciando posto la rovi Sìììììì Che disgraziello E ho fatto anche il livello 5 Ma c'è anche il livello Adesso parliamo Vado a pisciare Non abbiamo trovato le carte speciali Non l'abbiamo trovata Eh per forza Durata 2 minuti è durata Aspetta un attimo che Che riavvio il luoco Che Se non volevo usare il mouse del cazzo Non il ped di burbe Vinco con la gioia allora Cosa avevi ragione a cosa? Brutto coglione! Non avevi ragione in niente! Tutteggio finale 200, 300, ah si può mettere il tutteggio finale? Posso scaricare le carte di Raiman? Eh devi comprare, no l'ha presa di Raiman. Tanto era presa di Elyazar quindi le vediamo tutti. Bellissime! Tanto vado su Twitter e mi chiamo a fare. Che bellissime! Cosa fai su Twitter a farti i cazzi tuoi? Tanto finchè non mi invita son fermo. Dicono banche che... Magari vado in live oggi? No, no. C'è tutto l'audio che sento in live. Tra l'altro. Quindi non andare nei polvo come fai sempre. Non sento l'audio. Non sento l'audio. Non sento l'audio. Non sento l'audio, non sento. Zitti, zitti, zitti! Quindi ti è partito Robby? Vi rendete conto? Vi rendete conto? Vi deve streamare? Zitto! Dimmi te, se posso lavorare con gente del genere io. Robby, riesci ad entrare? Zitti tutti! Posso andare dentro? No. Sì no ti ho invitato però. Ah. Eh... A posto l'ho cambiato. Ah posso parlare. Ah 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 uh uh. Ok, la roba è entrata. Guarda, senza foto, disgraziata. No, no. Come si fa? Eh no. Adesso stai ferma che sennò... Moro abbassa il volume. Un attimo. Ah ah ah. Un attimo che adesso l'abbassa. Sì, la roba sta cambiando. Sì, la roba sta cambiando. E allora ti è? Aspetta. Adesso stai buono. Non devi comunque urlare, stronza. Ma basta voce, ci siamo in una live. Pronti. È la mattina comunque. Aspettami! Sono pronto. Mamma mia che paura. Sono pronta, mi riscaldo, mi riscaldo. Mi riscacchio. Ottimia. Mamma mia Robby, ti spacco la faccia, ti spacco. Cosa ci faccio? Robby ce lo dice anche io. Sì, ce lo dice. Che bello. Allora, non riesce ad avere. Che bello. Eccoci. Sì. Io sono l'uomo del change, Robby. Sono l'uomo del change. Questa volta no, però. Ah, ok. Tipo ASMR, sì. Sesso. Sì. Cos'è l'uomo del change? Ah, sei sempre quello che... Una tona. Sono il change, o sì? Che nervi. Odio. Vabbè, io odio quelli che bloccano. Fa un culo, stronza. Guarda, Robby. Ma perché ti chiami c'è chi va? Non gioca, va là. Ma cacazzo. Che disgraziati. Tra noi due, allora, ti è? Dai. No. Niente, niente. Stavolta ti impugno. Perché palle. Ah! Bene così, dai. Marco, scelgo te. Grazie. Bene così, dai. Maledizione. Questa la vincerò per voi. Yes, che culo! Bene, bene. Benissimo, benissimo. Ti rompo il buco. Gatto. Come si pesca? Nel marzo. Calma, nel mare. Ho cliccato le tue carte. Eh... Sì, sì, sì. Pesco, ma non perché non ho il colore, eh. Perché adesso devo fare le mie talle. Ma che palle. Che c'ho il mazzo murlo che devo fare le compi. Oh, attenzione, attenzione. Ma cos'è, cos'è? Non lo so. Che cos'è? Eh, credo che posso... Tengo occhiata le carte di avversario e nascondi... Ah... Tengo occhiata le carte di avversario e nascondi quella che... Ah! Ma... Ma due più due, la stronza! Allora? Due più due? È scomparso l'Eazar. Cos'è successo? Cazzo, è la fine! L'Eazar? Non lo so. Credo... Credo che siano editate invisibili le mie, non sapete quante... No, però, vabbè. Non è che... Un culo, L'Eazar! Vieni questo! Un Globox rosso! Ma sempre per lo stesso motivo di prima, preferisco controllare... Niente, no. Perché quella lì è una regola che in realtà non esiste, quella di mettere più carte dello stesso zoomer. Bruno! Fatto Bruno ha fatto! Sono Bruno! No, tante regole non esistono, ragazzi. Che voi credete siano di uno, non lo sono. Perché anche noi ci siamo... Non esistono. Mi fermo un attimo, Lio. Dai! Change, Robby, change! Eh, non ce l'ho, non ho niente! No, dai! Tu, coglione! Un gioco, non so cos'è, ma gioco! Cos'è? Cos'è cos'è? Ha ciucciato le carte! No, ne ho una! Eh, niente! Sono quelle della Robby! Che palle! Eh, raga, mi spiace! È stato bellissimo! Palle! Ma che spazza! Ah, vedi! Eh sì! Sì! E io comunque non ho carte! Caffè! Sì! Dove? Bene, fammi pescare! La prossima... La prossima live mattutina... Facciamo briscola! No, ma l'amor! No, quella è mia! Stai fermo con le mani! Mamma mia! La prossima live! No, combo! Ma guarda che palle è questa! Sono fermo! Il colore è brutto! Non pensi, Moro, che il verde sia un colore brutto? Il verde... ma... fa un po' cagare! Però cosa posso fare? Se non le cagano dai! È su Steam in sconto in questo momento! Costa 5 euro! Io non so cos'è ma! Dieee! Cos'è? E cambia colore un altro? No, non lo so! Non lo so! Ottimo! Ah, grazie! Ho tirato un carciofo! Cos'è che tu ti... Palle! E quello era il mio più due! Stavo vincendo... Ma so perché ce l'ha l'altro più due, Roby? Nooo! Benissimo! Blor, abbandona Ayrston e fai tutto qua! Eh sì! Basta questo Ayrston! Cosa vuol dire? Fammi pescare solo per controllare, eh! Un attimo! Bene così, dai! Allora! Figuri! Ma sì, non preoccuparti! Allora! Figuri dei Roby! Così Roby! Figurine! La figurina! La figurina! Ma tu sono figurina! Non ho capito! Dieter, ma quante carte! Eh! Ne avevo una, ne avevo! BRUNO! Rischio! Rischio! Non lo pare! Cosa rischia? Aaaaah! Io te lo contesto, Mauro! Cosa contesti? Uno meglio diverso, assolutamente! Ah, che peccato! Che peccato! Che peccato! Che disgrazia! Cosa ha vinto in due partite? Cioè, in due partite! Perché siamo di disgraziato! Perché ha il culo sfondo, gatto! La partita è incredibile! No, perché siete dei nabbi di merda! Uomo del change! Eccolo qua! C'è 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 change! Ma che stronzo! C'è bisogno, Mauro! E vai per la vittoria, Marco! Oh no! Vai per la vittoria! Qui troppi uno ci sono! Mauro, mi raccomando! Non ce l'ha rosso tanto, Marco! Vai tranquilla! Ok! Infatti! Nooo! 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 Puoi contestare! Che schifo il giallo! Puoi! Ma come funziona? Ma cosa contesti, coglione? Non l'ho ancora capito, ma... Marco non ha ancora capito come funziona la contestazione. Ma sì che ho capito, ero convinto che... E praticamente, Roby, se tu il più 4 lo butti giù... Ma al posto del più 4 potrei buttare giù altre carte? Cioè, il più 4 lo puoi buttare giù solo se lo puoi buttare solo quello. Altrimenti te lo possono contestare. No, comunque è facilissimo capire cos'è il contestare. Non è difficilissimo, è una stronzata. No, è capito, è fatti. Hanno suonato in maniera molto forte. Non ha detto uno! Non ha detto uno! Non ha detto uno! Era uscito anche a me a destra, l'hanno fatto in tempo. Fortunatamente Moro è sempre... Amici, questa la vinco per voi! Ha detto uno. Non avevo un potevo, non l'avevo scelto. Vinso e Moro. Campioni del cuore! Vinso e Moro. Questa città... Non era... Non sono pochissimi i 41. Fa cagare, è quello che sono fatti una nera. Mi hanno fatto i 200 prima. Rimanti dentro, rimanti dentro che... La prossima partita. Oh oh oh. Ok. Oh oh oh. Devo cambiarmi con qualcuno? No, no. Magari dopo con Gatto. Sì, dopo. Dai, vieni a vincere. Allora, allora. Molto bene. Eh, ditemi quando devo rientrare. Eh, verso mentre live, dai, facciamo lo switch. Ottimo. Ottimo, ottimo. Ah, no, no. Ah, no, no. Io metto un altro video. No, no, no. Io sinceramente non sono d'accordo. Oh, mamma mia! Non sono d'accordo. No! Tutte quanta! Eh, mi sentivo di sentire in quel momento. Allora io vado a farmi un pelo di spesa. Va bene. A dopo, gatti. E succede, succede pescare 6 carte perché giochi con delle persone che non sono capaci. Ripeto, Roby, ripeto, non sono d'accordo. Neanche io sono d'accordo. No, ma per la carne! Ma fai puli! Non me lo dovevo tenere, quelli. Mi ha fermato. Che dispettoso, che dispettoso. One, two, switch. Non solo one. Veronica. Bravissimo, vorrei che si impatti. Toccate, toccate a Roby. Tu si è accorto a saltare. Dorme, dorme, dorme. Ma visto che io ti voglio bene, lo rifai il turno, per favore. A modo, come si deve. Eh, niente, io mando Rayman bellissimo. Sono l'uomo del change, l'uomo del change, guarda, eh. Change! Il massimo è 4 persone. Si può giocare anche in 2 contro 2, si può fare. Sì, ma in 2, secondo me non è. Roby, per favore. Io non so perché. Ma tu sei molto gentile, davvero. Ma tu hai rotto i coglioni. Ma tu hai rotto i coglioni. Ma tu hai una strategia, non so. Che palle. Perché non si possono accumulare i più 4, scusi. A me a me piace tantissimo. Secondo me però è un cacone. Vi stai dicendo che ho più 4? Che veste. Che ti è. Più 6. Il gatto è arrivato a 18. Lo faccio. E non puoi. Moronti ci stanno tutte quelle carte in mano? Eh, mi c'ho due dita. Non lo posso fare. Morelli. Morelli. La regola è che non si possa ribattere il computer. No, si può. No, no. Queste sono le regole ufficiali, quindi. Cos'è? Che cosa capita era? Ah, Giri, le carte di qualcuno. Ah, che male. Guarda che infame, c'è il cambio colore. No, Giri, c'è il cambio colore. No, Giri, c'è il cambio colore. Copri che sono nudo, copri. Dai, cos'era l'altra? Ma era uno scherzo. Era una carta che avevo io per farvi vedere carte sbagliate. Micà. Eh, beh. Ora lo fa. Lo fa. No, l'ha fatto. A me non c'è. È rossa l'altra, è l'altra rossa. Devo cambiare colore. È rossa, ok. Devo cambiare colore. Tanto io sono l'uomo del change. Scusa, Robby, devo cambiare colore. Ma che cazzo? Beh, scusa, Robby, devo cambiare colore. Esatto, era un 4 rosso. Credo era un 4 rosso. Era un 4 rosso, era. Ma cosa sfidi, bastarda, dai! Marco, Marco. Dimmi. Dovevi sbagliare. Lo so, però... C'è 17 carte, c'è. Dovevi mettere tipo blu e loro l'avrebbero cambiato. Hai ragione. Ma no, però mi avevamo visto le carte. Avevamo visto le carte. Che è sto grassone? Non lo fa, vero? Lo fece. Mamma mia, Tiene. Lo fece. Ma ridotto un sacco le carte, bordo. Lo fece, lo fece. Ma porca troia. Ma io sono l'uomo del change. E quindi, changeiamo. Vabbè, lo rigioca, voilà. Va bene, allora, Robby, visto che ridi tanto, stai fermo adesso. Chi è che ce li hai i miei più 4 adesso? Eh, quello di cui io dopo morgo. Quale vedi, scusa? Eh, 7-8. Di quelle 17 carte. Ma guarda che qua è ancora invisibile, non sappiamo quante certe. No, è ancora invisibile. Ma forse è dura per sempre. Non so. Perché palle. Un culo. No. Non ha ancora 46 di carte. Non te la posso contestare. Secondo me, rinuncio. Cioè, mi spiace. Ma anche lui ne ha due. Mi ha dato un achievement e simpaticone. Ma l'avete visto? Che provata. Simpaticone. Tra l'altro, se io faccio uno e non lo dico, non mi potete contestare adesso. Panculo, Mark è già... Che vuoi, che vuoi? Sei zitto, fatti fatti i tuoi. Ed è inutile che cambi colore, tanto sull'uomo del change. Ma che cazzo rosso? È l'unica che non c'ho, panculo. Ma come è possibile? Pieee, cos'è questa? Cos'è? Cos'è? È sbarellato, è esploso. È bene? Ah, e mi c'è un effetto a caso? Questo non ce l'ha, Marco. Non posso fare altro. Non ce l'ha, merda, tieee. Maiali, maiali, tieee. Ma che coglioni, Marco. Sono l'uomo del change, tanto. Maiali, maiali, ha pure changeato. Maiale, maiale disgraziato, disgraziato. Che paura che mi ha fatto quando ho fatto così. Ci sono le regole ufficiali, ma ci sono le carte. Dai, ho detto uno di 17 volte in questa parte. Perché bestia di satana faremo brutto. Esatto. Tanto sono l'uomo del change. Potete fare quello che volete, non mi spaventate. Lascia il rosso che non ce l'ha il rosso. E me non ce l'ha il rosso. Lo vedo dai suoi occhi che non ce l'ha il... Ah, dici. E facevi male perché non ce l'ho. Che coglioni però, neanche io ce l'ho. Neanche io ce l'ho. Niente, non mettiamo più il rosso, per favore. Rimetti il rosso. Ma che seconda. Runo. Fanculo. Fanculo tu. Ma tu fanculo. Ma tu fanculo. Non posso cambiare. Ma siete proprio delle bestie. Attenzione. Ronaldinho. Runo. No, non alverda. Runo. E palle. Dai, che partita al cardio. Al cazzo pappo. Mamma che vergogna. Dai, non ce l'ha anche lei. Vai avanti di red. Eh no, devo cambiare il forno. Fanculo il yezer. Eh, devo cambiare il forno. Rifai yezer. Non mi sapere un altro. Va bene, va bene. Ma va bene. Tieni. No, ti rischio. Non ce l'ha il giallo tanto. No, non ce l'ha il giallo, la ragione è morto. Però ho vinto. Tieni, tieni, tieni. Tieni. Stratto. Che fai. Riccardo. Fammi legger la chat. Mamma mia, che cardio cacchio. Non posso tabare, non posso tabare. Fammi aprire il telefono. È al livello 4. Non ho risposto il nome, fa cacchio. Che fai. Ui, Dandrek. Era facile, era. Così. Cioè, siamo 6. A subito. Faffanculo. Niente. Dai, Roby. Eh, ho saltato il turno. Non posso. Ma, diciamo. Perché mai? Eh, non posso. Cosa ci devo fare? Vabbè, Moro, voilà. Rigiocca. Va bene, grazie. Team Change Mark. Prova, dai, gioca tu. Hashtag Team Change Mark. C'erano più. Palli. Era che ieri così l'ho fatto vincere, ma fai proprio che è chiuso per un cambia giro. Eh, vabbè, vabbè, vabbè. È vabbè. Tieni, Roby, è il tuo turno, sto giro. Va bene, meno male, grazie. No, Roby, mi... Non lo so, perché sono l'uomo del Change, quindi lo devo fare per forza. Basta, sono l'uomo del Change. Sono l'uomo del Change. Dai, Roby, prendi due carte. Ti Change ogni, io ti Change. Tanto per dire. Sì, veramente sgradevole. Stiamo giocando a uno, veramente sgradevole. Ci stiamo accorgendo sti giorni che con i Magalli Nudi e con uno facciamo... C'è, un page, un page. Un fuoco, un page. I Magalli Nudi, soprattutto. Sì, sì. Non posso, non posso. Io... Roby, sei una disgraziata, per caso. Facciamo così. Potresti fare il giallo, il verde. Posso fare il rosso, per esempio. Potresti fare il rosso, che infatti io... Vabbè, no, per adesso. Oh, vedi Marco, batti 5. No, perché mi hai dato 77 cari. Facciamo quell'altro. Non è colpa mia, Moro mi ha provocato. Quale? Sono l'uomo del Change. Sono l'uomo del Change. No, aspetta. A metà, a metà live facciamo quello là. Cambiamo. Cambio. Liezzaro, metà live hai detto, quindi puoi aspettare, mi stai dicendo. Eh, aspetto, però guarda che rischio, lì hanno due carte ciascuno. Vabbè, io per adesso mi sento... Moro, guarda, ti guardo negli occhi. Mmmmm. 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 Nooo. Adesso è diventata. Sì. Eh, avrò il blu? Eh, non posso contestarla, penso. Eh, no. Eh, penso, dipende. Potrebbe... Ma perché non so, nel senso... Non avrebbe senso, Marco, avrebbe vinto col più 4, perché lo tenerebbe l'ultimo. Effettivamente. Eh, provo a cambiare colore qua. Dobbiamo cambiare colore, effettivamente. Eh, no. Non ce l'ho questa volta, mi dispiace. Eh, no. Eh, no, no. Non posso. No. Mi suonano alla porta, devo andare a vedere intanto che ho vinto. Torno su. Non potevo. Ha vinto questo maiale. Con una... Con una nonchalance. E io? E tu no. Mi dispiace. Non potevo vincere io. Io ne ho vinta una sola io. Eh, mi dispiace, Roby. No. Ma secondo me la prossima andrà meglio. Non è vero. Si che si può chiudere col... No, forse col più 4, no, ma col cambio colore, si. Pa, para, pa, pa. Vabbè, non puoi... Puoi chiudere anche col più 4, cioè... Che bella la canzone di Rai, ma... Tocca a Moro, va che pesca. Qual è la... Vabbè, fatti i suoi, fatti i suoi. Guarda, 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 faccio lo stronzo. Ma è andato alla porta. Vai, vai, riportagli, riportagli. Va là, giocca te, Moro. Siamo un po', fammi vedere, Moro, fammi vedere quante carte hai. Mi sa che non ce l'ha, lo vedo titubante. Non lo so, non lo so. Vediamo, vediamo. Lo vedo preso bene, però. Forse potrebbe fare una colpo di scena finale. No, niente, niente. Attenzione, attenzione. Pettato, però, peccato. Vediamo, vediamo. Io non me l'aspettavo da Moro. Robi, ritorna un po' da Moro, vediamo un attimo. Magari adesso ha la carta giusta. Secondo me potrebbe avere la carta giusta. Ah, facciamo così. Ah, che cos'è? Un ciccione? Ma no, dai! Vabbè, avevo delle carte orribili, quindi... Ma io ce l'avevo bellissime. Ah, adesso ce l'ho fantastico, quindi... Ah, wow! Eh, Moro, è sempre titubante. Ciao, Burino. Ciao, Exheim. Che belli che siete, siete tantissimi. E qui è tornato al punto di prima. Mi sa che non ha il blu, Moro. Lo vedo, infatti, lo vedo, lo vedo che è un po'... Ah, peccato, peccato. È stato sostituito da Raiman. È stato disconnesso, vergogna. Ma dai, pezzi di sterco, potevate aspettare un po'. Era appena arrivato. Guarda, noi ti abbiamo anche dato l'opportunità di buttare giù le carte, ma non c'è stato verso, niente. Mi fa un culo, guarda. Però se ora Raiman vince, vi insulto tutti, eh. Mi è arrivato il corriero, mi è arrivato. Così è puttato, muore il corriere. Il 6-2. Ah, ah. Eh, crede di farmi un dispetto? Sì, sì. Ma invece ho 8 carte all'Iezer. Cosa? Puttacanna. Bastardi, bastardi. E invece no. Ah, io no! Invece no, 12 al botto. Ma come? Sono io al botto. E invece? 10. Ma io botto anche tu me la fatti! Devi cliccare sulla carta, no su contesto. E no, non me l'ha fatto giocare, forse mi sa che più di due non si può. Oh no! Dove è? Non fa niente. Perché? Non è vero? Dai, com'è possibile? Ah, ce l'aveva anche lui, ce l'aveva? Quindi no, no. Era un casino, era. Ha vinto! Bravissimo. Ha vinto il botto. Il botto bara. Ha vinto il botto. E no, no, nel senso, ha giocato il più 4, ma... Sono l'uomo del change. Sono l'uomo del change. Tanto io vi volevo dire che... No, mi è arrivato questo pacco da un noto sito di elettroniche. E dietro... C'era un volantino dentro di Bucker.com Che è un coso di botanica. E dietro in questo volantino c'è scritto Per lei questo limone. Grazie mille. E c'è effettivamente un alberello di limone. Solo 1,95 euro in caso siete interessati. Quante? Quattro lì che c'è più quattro. Maledetto, quante carte c'è? Noi anche una me ne ricordo, ne aveva troppe. Vedi, non ne avete ancora vinto? No. Moro, non preoccuparti che adesso io non vinco. Ah, vedi? A questo punto adesso che dobbiamo uscire che abbiamo mondo. Mmm... Robi, non lo so, non lo so. Fammi provare a pescare. Ottimo, ottimo, ottimo. Bene così. Il botto non me la racconta giusta, pesca tutta. Non te la racconta giusta. Anche secondo me. Guarda che... Ah, che stronti. Quattro lì, vacca. Quindi ti ha tirato un pugnone alla faccia? Così funziona? Ma scusa, eh! Robi, fammi... Butta un numero che change io, butta un numero... Ecco, vedi, change. Vedi che ci capiamo. Sono l'uomo del... Ma certo, Robi, ma perché c'è un livello di... C'è un livello di... C'è un livello di... C'è un livello di... Ah, vedi, ce l'ha col bot. Ce l'ha, bene, bene. Voglio proprio vedere... Liezar, ti invito a tenere giallo. Bravissimo. Ottimo così. No, no! Eh, lo so, lo so, perché... Eh, lo so, lo so. Vedi, se non giravi sarebbe toccato a Liezar. Che peccacchio, guarda. Verde, non c'è problema. Tanto sull'uomo del change... Non in questo caso. Il bot ne sa, il bot ne sa perché ne ha passate tante. Si vede dalla faccia. Marco, ci penso io a te. Grazie, grazie. Ma non male che mi stavo... Mi devo grattare dietro il collo, che fastidio. Non segnalizzare ne scrivere, dove cazzo sei andato a scuola, scusa. Mi contesta. Mi contesta ha perso. 67 carte per il bot. Sicuramente adesso ne ha sei. È proprio Moro, comunque, si sente che era Moro quel bot. Si, si. Ah, bella. Uno. Ah, vedi? Molto bene, siamo fratellini, Roby. Eh, sì, funziona così il gioco. È una sfida, è una sfida. A un certo punto devi dire uno. Non preoccuparti, Roby, non preoccuparti, pesco anch'io. Once again. Let's start. Grazie mille. Tre. 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 Un quattro, un quattro. Non è uno. Quattro come le vie del nostro chakra. Vedi, la Roby invece è uno. Anche io, per esempio. Vuoi ricordare con i giocatori come si chiama questo gioco? Bruno. Non gioco Bruno. Mi prego, prego. Bruno, giocate Bruno su uno. Facci sognare. Che culo. Mamma mia. Che vergogna, che vergogna. No, lasciamo il giallo. Bot, non cambiare. Stupido bot. Ah, va bene, va bene. Oh, quel bot sono io, mi sono appeso. Eh, che ci vuole, che ci vuole. Ho sempre la soluzione. Anche ho smaltito la carta. Ma dai! Ha vinto Robert. Tastrozza. Quanto, quanto. Eh, andiamo a Berlino, Rob. Comunque, comunque non è possibile che uno ci prende più la competizione che un cazzo di altro gioco, qualsiasi. No, veramente. Ma vaffanculo, rendo sì. Cosa? No, no, adesso potete parlare. No, ancora possiamo parlare. Allora, Rappi. Ho paura perché magari... Aspetta, perché sto giocando con Barbara? Ma i Cici, Cici. Ma lanciala stare con me. Ok, esci da lì. Barbara Dursus. Vi reinvito. Schib, Moro. No. Ok, ancora posso parlare. Piano. Adesso devo parlare pianino. Devo parlare. Zitto per l'amore del cielo. Signore, zitto. Sono falso. Proprietà. Adesso. Adesso. Livelli. Che cosa è passato? Ok, adesso posso parlare. E io no, aspetta. Aspetta. 55, benissimo. Adesso il livello è adatto. Ma Inot, non vuoi giocare? Inot non lo possiede purtroppo. Perché sa che vincerei io perché sono l'uomo del centro. In verità, in verità. Non è arcade questo gioco, Inot. È completamente random. Sì. È il gioco più random della storia dei random. Io gioco con voi solo perché non voglio farvi il culo ancora. E ancora, basta controllo. Moro, buttami giù una carta che sono l'uomo del change. Niente. Non mi fa... Buona, Roby. No. Tranquilla, Roby. No. Moro sa che poi... Te stronzo. Cosa sa, Moro? Sa che deve stare fermo. Sa che deve stare con le mani nel sedere. Anch'io ce l'ho il pirata. Guarda, il pirata. Il pirata. Il pirata. Cioè, ieri il pirata è questo qui. Non è Napoleone. È perché non avevo visto che metteva la mano nella saccoccia. Non l'avevo visto. Marco, mi dispiace. Dimmi un po'. Mi devo dissentire. Roby, io capisco perfettamente. Infatti le do a Moro. Dai, non ce l'ho io, bastardi. Devi arrivare a 18 e batte ragazzo. Anzi, a 19 per battere ragazzo. Non da Roby. No. Che palle. Perché han paura di me, quindi mi rimano contro. So che sei una brava persona, in realtà. È vero. Ma è dato che è bello piccolo. Moro, dimmi un po'. Vedi un attimo le... Hai rotto i coglioni. Non sto giocando mai più. E ti voglio portare al record. Poi ho tutte carte normalissime di merda. Che domanda, che domanda, Alex Fox. Allora, io ti dico perché... Ho preso il Samsung... ...son del mestiere, cambio il colore perché... ...evo. Da 250. Il 850 evo. Moro, se per favore ci fai anche notare la tua presenza. Atti, gatti, tua. To, giocala. Ma allora... Moro, io siccome ti amo, ti do la possibilità di rifarti con questo. Dai, vincila questa. Hai ragione, la vinco. E vince in due secondi la partita più veloce della storia. La partita più veloce del mondo. Eh, me lo chiede con gentilezza anche. Mi sembrava brutto non farlo, insomma. Bene, cosa vuoi? Eh, ma fatti tutto in camioncio io. 3. Ma che brutta signora, sono l'uomo del change. Eh, sono l'uomo del change. Change. Eh, vabbè. 5. Roby, dovevi avere un pirata da qualche parte. Però te lo faccio vedere dopo. Aspetta un attimo. Ah, no. No, aspetta. Faglielo vedere subito. Lo faccio vedere subito? Faglielo vedere subito. Ho bisogno dei miei spazi. Aspetta. Però, Moro mi sta sulle balle un pochino. Scusate. Gioca a te. Marco, guarda che bella sta carta. Sto stimando Mario che cambia colore. Ah, sono stato fermo. Che imbarazzo. Sono fermo. Ecco cosa si prova. Secondo me Moro non c'era bisogno però. Io potevo fare quello. Stanno facendo clipini su uno. Eccolo qua il pirata. Eh, porco il cacchio. Ah, mi mettete in difficoltà. No. Attenzione, ha scelto rosso. Ha scelto rosso. Robi, io non ho paura perché se non ho il colore c'ho comunque il numero. Senza... Macchia d'amore mare. No, no, Robi, perché io ti ho detto è un potere. Sono andato in Tibet. Oh, no, no. Ad allenarmi con Demona. Guarda cosa ti faccio. Ah, Robi, mi metti veramente in difficoltà così. No, va bene, non è possibile. Dai Marco, questa è la vincendiezer. Moro, Moro. Bruno. Ha detto Bruno. Ha detto Bruno. No, quanti Bruni? Raga? Quanti Bruno? Eh, che vi devo dire? Siamo tutti a Bruno, siamo. Guarda. Bruno. Bruno, tutti Bruno. No. Che palle. Comunque, volevo rendervi partecipi al fatto che ha finito l'installazione di Visual Studio 2015. Molto bello. Ottimo, ottimo, ottimo. Ma ora... Ne approfitto, a minotte, ne approfitto di questa cosa qui perché... Ah, vado a vincere. Ma che palle. Ah, vado a vincere. Ma che palle. Marco, sfondo di culo. The King of Kings. Ta-da-da. Ti avrei sapato, è stato inutile, cioè. It's time to play the game. No, 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 no. Dicono bene, è Napoleone, non è un pirata. No, no, è un pirata. È un pirata, ormai è un pirata. Ormai è un pirata. È un pirata, ormai. Perché Mark ieri non ha capito che era Napoleone. No, perché non ho visto che metteva la saccozza. E quindi è diventato un pirata. È diventato un pirata ormai. Molto bene, molto bene. Sono l'uomo del change, confermiamo questa cosa? Confermiamo. Bruno! E che paga? Ah, vuoi che io lo rifaccia? Allora rifaccio. Sono l'uomo del change, quindi tocca ancora a te. Cazzo, benissimo. Ti metti alla prova tu. Eh, ho capito io. Eh, vedi, vedi. È così, funziona così il mondo. Si change. E per ogni carta che hai, non ho una anch'io. È incredibile, questa cosa, guarda. Culetto. Dopo culetto, tutti i miei personaggi sono... Ma il bastardo! Tranquilla, Roby, rimango così. Stavolo. Dai, coerenza innanzitutto, mi raccomando. Le carte nelle mutande, no? Le carte nel culo. Sì, sì. Allora, Marco, guarda là! Fammi vedere. Ah, tocca a Roby, non l'ho fatto in tempo, cavolo. Oh, buono, buono. Un verde, un verde. Bene, bene. Fammi vedere, moro, fammi vedere. Marco, guarda là! Fammi vedere. Eh, vabbè. Ma non faccio mai in tempo, ma che disgrazia, oh. Allora, io ci provo. Oh, Bruno! Ci vada bene stavolta. No, senti, c'è il verde sicuro, stavolta. Ti consiglio di tenere il verde. Ti consiglio di tenere il verde. No, c'è il verde sicuro, lei. Io ti consiglio di tenere il verde. Perché ha fatto la baruffa, adesso... Tranquillo. Nooo. C'è il più 4 adesso. Sì, potrei avere 3 più 4. Va, che gioco al pirata dopo le ore. Meno male, meno male. Cazzo, da qua mi sorge un dubbio, in effetti. Perché se in Roberta sorge... Porca troia. Secondo me c'è il più 4 in mano e non sa... Bruno! Guarda. Ti può chiudere con il più 4. Ti dirò, sono un po' in difficoltà questa volta, eh. Ma è così? Sono un po' in difficoltà, sarò sincero. Eh. Aspetta, perché c'è un dubbio? Ma io non contesto. Secondo me a cambiare colore in mano non sa... Ah, no, no. C'è un dubbio qua, perché... Un dubbio change. Bruno! Però adesso che ci penso in realtà no, vado a riuscire. Ah, che paga! E once again, anche. Vaffanculo! C'è uno sfondo, grazie. Grazie Grayskull. Grazie Grayskull. Ora, non vale finire con le nere. Meno male, meno male, meno male. Ma infatti dicevo... E comunque io la regola che non si può chiudere con le nere ce l'avevo. Sì, anche io sapevo che... Questa non è una regola di questo gioco, evidentemente. Ce la siamo inventati noi come quando davamo i più 4 e buttavamo giù lo stesso. Eh, però dai, da stronzi chiudere con le nere. No, però da stronzi. Non è vero. Io avevo due più 4. Non è vero, non è vero. Tu sei una stronza! Tu sono stronzo! Scusa, te l'avrei presi io, più 4. E quindi che colore vuoi? Change Mark, hashtag. Questo, dai. Però, non so... Mark, guarda là! Ecco, che... Lo ho fatto anche in tema guardare questa volta, è incredibile. Marco, non ti preoccupare, ci penso io. Allora, Robby, sei davvero un'amica. Metto giù il pirata. Eh, e mo? Robby, sei davvero una minchia. Metto giù la strega. Vediamo se possiamo confermare questa tesi del change, Robby. Vediamo. La possiamo in un certo senso confermare, perché... Eh, vabbè, grazie. Certivamente. Scusa, ti meriti la nomea, At. RISNERFMARK. RISNERFMARK. Ma sì, bisogna farlo, bisogna farlo. Se bisogna farlo, la Robby si ferma, giustamente. Non abbiamo ancora beccato potere. Questa volta devo pescare. Questa nuova mappa, no. Ma, infatti, da me, si dice, sfortunato in gioco, sfortunato in amore. Eh, ci devi dire qualcosa di Sara, Marco. Eh, effettivamente la storia con Sara è tribolata in una fina incredibile. Ma dai. Fammi pensare, quando arrivo a 18, niente. Uno. Eh no? La carta, proprio. Eh, la carta, era uno. Marco, mi piange il cuore. Accidenti, questa volta non posso davvero dirti niente. Questa volta non posso davvero dirti niente. Eh, che stronzi. Ma allora! Robby, ti invito a non toccare niente, io. Ti invito. Perché Moro... No, ma Moro, c'è bisogno di raccogliere fondi, mi sembra, no? Per una causa... Ti invito a non toccare niente. Mouse. Sì, sì. Ti esorto a... Adesso ti invito a buttare un numero in modo che io possa changeare, come al solito. Ah! Dai, Marco, rifallo. Questa volta mi prendi impreparato, preferisco rimanere della tua opinione. Eh, invece la cambio io, contenti? Ma... Ah... Brava, vedo che impari, Robby. Impari in fretta. Sei il migliore, ovviamente. Molto bene, molto bene. Preferisco di no, questa volta. Meno male. Sì, franci. Meno male, meno male. Sì, sì, siete in 700 a guardare degli stronzi che giocano a uno, comunque. Questa competizione... Che mamma mia, le mani nei capelli e poi dentro il culo. Oh, grazie. Grazie, ma mi sta un po' sulle palle, sinceramente. Ma che palle, ancora? Beh, mamma mia, alla fine è un gioco, no? È un gioco, bisogna accettare le regole. Ah. Oh no. Bruno! Che tensione adesso, che tensione. Non puoi vedere stretto, eh? Eh sì, il culone stretto. Eh, lo devo fare. Eh, sono costretta anch'io a fare questa cosa, però spero in un futuro di giro. Ah, ma guarda un po', ma guarda un po', ma guarda un po'. Ma che cazzo! Io lo sapevo dovevo tirare il cambia colore. Aspetto di sterco! Maiali tutti. Soprattutto io, eh, però maiali tutti. Sì, te sei veramente illegalissimo, scusa, ma... Ah, che culo che c'ho oggi. Anculizzati. Quindi a vincere manco solo io, mi sto dicendo che... No, hai vinto prima. Ma che vinto prima? Ha vinto carte della... Hai vinto una volta. Ma che sì, le carte? Non sono uscite le carte belle, quelle dei superpoteri. E io sono l'uomo del change. Confirma. Anch'io. Confirma. Non ho paura perché se non ho il colore c'ho comunque il numero. Infatti c'ho il colore. Ma com'è possibile? Che bella canzone questa. Ci sono gli storaccessi qui con la cartella. Il rosso mi prende davvero impreparato, Roby. No, hai spirito non lo vedo mai. Sennò è un insulto unico e basta. Io mi sono face comunque. E vabbè, ce ne faremo una ragione. Che dobbiamo fare. Fai un cambio, Marco. Vuoi che faccia un cambio? Sì, sì. Faccio un cambio? Ora. No. Dai, che dobbiamo messo il pirata. No. Ah. No, quando si mette il pirata io mi sento di tenermi alle regole. Guarda, mi metto il 5 anche io. Ah, vedi, grazie. Questo mi piace uno giù. Andiamo a cercare a Monopoli la prossima volta, dai. Ma stai scherzando? Ma secondo me a Monopoli si può fare. Eh, non si può. E sulla Play. Sulla Play bisogna prenderlo. E sti vuoi io. Accidenti, Roby. Ma so che potare. Questa non me la dovevi fare. Ma io posso sempre uscire dalle situazioni. Nel prossimo giorno. Ah, poi. Il Monopoli in questi baranghieri da Play. Non ce la fate a Carlo. Un ora, Monopoli. Però poi ogni volta che passiamo dal via e prendiamo 500 euro ce li dovete dare anche a noi. Beh, Roby. Come è? Sì, sì. A donazione ci giocava. Che succede, scusami? Dai, Marco. Allora. Grazie, perché avevo proprio bisogno di riscattarmi. Ah, ma come? Mi rimasta male perché... Bruno! Eh, lo so. Però adesso il giro è cambiato, Roby. Ah, ho paura. Change, non lo fare, Roby. Non lo fare. Non lo fare, guai a te. Io ho fatto l'uomo del change. Orta miseria. Vedi che si bug ha vinto. Non l'ha detto, vassard. Facciamo due gioie di Monopoli, ovviamente. Moro ti consiglio. Ma non l'hai preso le carte, Eliezer? No, perché avevo deciso la sfida. Però dovete cambiare colore. Sto facendo un ragionamento tattico. Aveva il blu. Lei non aveva il blu. Non aveva il blu. Non aveva il blu. Non è che non avevo il blu. È che è una carta sola, Marco. Eh, ma prima non era il blu, però. Ha il verde, sì. Non cambiare, Moro. E non posso? Ok, tieni. No! Ehi, Marco, come sei vendicativo. Non ti ci fai... Ma no, ma aspettavo il momento propizio. Apri... propizio? Il risico dura le ore, come fa? Ed anche il monopoli... L'uomo del change, confermiamo, confermiamo. Molta paura di questa cosa, confermo. Prendi che non è solo l'uomo del change, devo farlo. Ma contro la mia natura. Io provo, non so cosa sia. Tu provo. No! Questa è una disgrazia per noi. Tanto sempre io le prendo quelle più alte, come ieri. Infatti, tre io e uno agli altri. Ma non ho l'accusa. 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 È da carte a caso. Anche a me? Sì. È a te, hai avuto culo, però. E vai. Change. Mmm, Moro, mi prendi impreparato a sto giro. Ma non è vero, perché sono sempre l'uomo del change. Gli dal quante carte? Eh, palle. Cazzo, gatto, 18 carte. Attenzione! Colpo? No, il pepe al culo, il pepe al culo. Che fastidio, che bestia, che bestia che sei, Moro. Corri, 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 corri. Che bello che cosa. Ah, non posso, non posso, verde. No, no. Non, non dovevo farlo. Questo cos'è? Eh, eh, no, che ansia. Ah, Roby. Roby, ciuccialo. No, no, no. Cosa? Che sembrava particolare, ma non era, me la sicuro. È inutile che venite a me, vai via. No, pop off. Non so. Pop off? Cos'è? Eh, con te sta sfida. La perce, la perce, la perce. Ampey. Peccato, peccato. Orea grande, orecchia sventola. Niente, mamma, come siamo fermi. Duri, durissimi siamo. Che disgraziato. Ah, è andato via. Grazie, Leovord. Quanto l'uomo del change, l'uomo del change. Ma che schifoso. Non funziona, non funziona. Non devo essere più tranquilla. Eh, Franci, guarda che questo qui, questo è il vero competitivo. Non counter-strike. Ho bisogno di tirar fuori il mio potere, Moro. Ho bisogno di tirar fuori il mio potere. Ma cazzo, ho 96 carte, devo pure pescare. Perché non funziona più il mio potere? Change, dove sei finito? A me se ti piace, eh. Allora dai, lo lascio. Lo lasci? Lo lasci bene. Che zavolo ce l'ho. Che coglione. Che palle. Sto arrivando, mi sto alzando come carte. Questa cosa non mi piace. Ma stronzo. Ma tu non ce l'ho il giallo. Anculo. Roby, vedi un attimo le prime due? Che mi pare c'era una carta bella. Ehm... C'è questa. Ma che stronzi. Che palle. No, quella di dare carte a caso è una... Ma sì, non è un po' le peggiorno. Sono carte speciali del DLC. No, no. Nel gioco vero uno arriva per il mattolo. E te li lancia a caso. Vabbè. Non lo scrivete in chat che lo leggono. Zitti. Non... Leggo. Dov'è? L'ha letto. Non l'ho letto che non c'ho voglia. Dai. Ma cosa? Non sono un baruffone. Undite le carte in chat che se no poi lo sgamiamo. Ehm... E la bua, la bua, la bua. No, no, Roby. Vedi un po'. Eccomi. Controlla bene. Ciao, ho gatto. Ma sai che qualsiasi ce le ho? Sei proprio un picco. Mi fate fare l'attima. Ma io ero molto gentile. Cosa? Ma fanculizzate. Gatto, guarda che ho fatto una streak, manco Undertaker comunque. Eh, ho capito. Vi ho detto gioca, gioca. Poi non mi avete fatto giocare più. Ma non c'eri? Adesso, adesso c'eri. Vi ho detto che andavi a fare la spesa, cosa ne so io. Ma non dovevo. Volevo andare dopo. Adesso entra e giochiamo. Ehm, io... Cosa, io ero qua a giocare. No, no. Ti sentivamo? No, no, sei sorda. Ah. Non toccare. Non ascolti con il cuore. No, no, sei sorge. Ascolti qua la testa e non con il cuore. Guardate. Mi prendi il giro o sei stupida? E sono sorda, cretino. L'ho capita. Bravo. Lo stupido io allora. Mi fermo benissimo. Molto bene. Molto bene. Ma che bella sta carta, wow. Allà. Devo fare... Devo tirar fuori il mio potere. Ehm, che cacchio però. Devo tirar fuori il mio potere. Change. Bastia, bravo. Non l'ho detto, non l'ho detto. Perché si diventa acutissima la voce di roba e vibra quando... Sì. Ma vaffanculo con stai merda. Guardate, guarda. Guardate a voi. Che cos'è? Che paura? Non potete pescare. No. Non potete pescare. Cioè? Eh, se provi a pescare... Guardate, devo pescare io per forza, brutti infami. Che palle. No, è vero, Roby. Questa è stata una bastardata però, eh. Questa un po' sì, sarò... Sarò concordi. Meno male, Roby. Anzi, rifletti bene su quello che hai appena detto. Che gli Ezra so che c'ha una mossa segreta. Il passo. Beh, sì. Veramente. Sì, infatti anch'io... Mamma mia che pensieri che c'ho, meno male che... Sì, sì, il giocatore massimo è 4, purtroppo. Roby, ci stai ponderando. Vedo che sei molto riflessiva. È la fine per te? Oh, cazzo. Cazzo, però. Cazzo! Che figa. Ma guarda a te, ma baffangulo. Niente, io... Boh. Ho un monocromo nelle mani. Porca troia. Eh, io fortunatamente no, amor. Devo rifare tutto da capo, mi suicido. No, no. Come è possibile? Non ci credo che siete stronzi, comunque. Perché l'update 3 di Visual Studio è nel 2015, da problemi con la build dei progetti di Unreal. Il problema è che non si può disinstallare solamente l'update, bisogna disinstallare tutto il programma, utilizzare un altro programma per togliere tutto. L'ha rimesso, eh, Moro. Niente, io cosa faccio? Ha rimesso il giallo. Hai notto? Ha rimesso il giallo. È di Visual Studio, comunque. Ti ho messo il giallo, forno a me la teoria. Cambia giro. Cambia giro dopo, dopo, Moro, dopo. Cambia giro. Ma fa stronzi, ho vinto. Io uso il 2015 perché mai quello abbiamo. Panculo. Guarda, lascio il posto io, gatto, che mi metto a montare il SSD. Vai, gatto. No, no, ti lascio il modello. Ma ti devo... monto io il SSD, lascio io il popolo. Beh, uccite, uccite. Ma te lo io monto, io. Uccito dalla parta. Adesso comincio a parlare piano. No, infatti serve la versione 2015 per Unreal Engine. Quindi, comunque, devo fare tutta sta roba di nuovo. Guarda, visto che Gatto non l'ho giocato, proviamo il... La pottana se distruggo tutto. Ha giocatelo, prima l'ha fatta. Non l'ha fatta. Non l'ha fatta. No, no, sì. Vabbè, riprendiamo Rayman. Entra che fa tutto, cagare. Io l'ho fatto Rayman, eh. Vabbè, però non avevi visto le carte speciali. Eh no. Sono fiche. Allora, schicchiive. Allora. Connetto. Non mi accettare. Dal cenellare. Per meno vivi... Aspetta, zitto. Io posso parlare, strumento. Io no. Allora stai zitto, tu bastard. Senti che terremoti. Accetto. Sì. Ok, se no ci porto a cerco. È il gatto in mezzo. È un attimo. È un attimo. È un attimo. Se mi date il tempo adesso. Sottovoce, bravissimo. Allora ho una bucetta che è piccolissima. Senti, poi... Pronti? No. No, no, no. Cazzo, ma con che immagini... Guarda, comunque la prossima volta scrivi dopo. Se no sentiamo anche dun 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 dun. Io scrivo quando cazzo vuole, va bene. Inizia! Tanto io vi abbandono, che mi metto a fare le cose e vi seguo da... Brava casalinga, brava. Dalle altre cose. Ciao, a dopo. Ma cosa sai? Cosa sai? Tu non ce l'hai l'immagine profilo, Robby? Che cazzo vuoi? No, infatti non ce l'ho. Vabbè, io cambio giro che è così. Hai fatto bene, hai fatto bene, ragazzi. Ma dai! Solo perché non hai il pollice. Sì, così impari. Va bene. Tanto è vinta questa. È vinta, è vinta. Però prima... Aspetta, Aliezer, fammi parlare un attimo con la Robby. Allora... Io pensavo di mettere questa. Ah, quindi mi stai ripassando la parola. Sì. Mi hai fatto un favore. Questa volta non so come risponderti, guardo. Mi prendi impreparato, non ho studiato. Ah, niente. Mi prendi impreparato. Mi gioco l'8. Ah, sono la serie che fa crocchi crocchi. Beh, più o più due. Ci vuole un due. Ah, accidenti. Accidenti, gatto, accidenti. No, un set. Questa proprio non gliela dovevi fare al mio amico Mario. Uuuuh. Cosa succede in questa carta? Hai fatto bene. Come ho fatto bene? Sono contenta, allora. Però è vintissima adesso. C'è sette più qua. Aspetta, aspetta. Preferisco andare con calma. Allora, io cambierei in giallo. Perché secondo me è più bello. E poi è primavera. Sono d'accordo. Io invece cambierei in rosso. Ma... Vabbè, dai, siamo così prima. Oddio. Che c'è quella roba lì? Va bene. Eh no, non va bene. Allora, io mi impongo. Ha detto Bruno, ha detto Bruno. Eh, credo che ci abbia il giallo, credo. Ma io lo terrei. Gatto, vogliamo sfruttare le mie natiche? No, tienilo. Prova a buttare il numero che cambia colore. Tienilo. Tieni il giallo, Mark. Vabbè. Mi fido di te, Renas. No, adesso mi lancio il... Lo sapevo, io. Guarda di che coalizione. Ah, un disgraziato. Evidentemente è un disgraziato. Appena cambia il turno. Cos'è quella roba lì? Non so cosa faceva. Guarda le carte e ti rende invisibile. Quindi non sapevo mai che hai uno. Guarda la roba. Ah, vedi? Che belle carte. Molto bene. C'è un rosso, verde e giallo. Ma le hanno tolte. No, sono invisibili. Change, change. Ottimo. Abbiamo finito i gialli. Lo sappiamo che carta la Robby. Non ha un monocolore. Però ha un change. È avverso, lei. Changeerei ancora io. No, dai. Perché? Non farlo. Ha changeato un'altra volta. Non ha detto uno. Merda, ho calcato su uno io, però. Che palle. Forza, ha fatto di merda sto coso. E tieni, io continuo. Continua su questa striscia, lui. Bene. Come dice Maradona. Continua su questa striscia. Vai, Igliezza. Vado dove, vado. Oh no. Ha detto Bruno. Io pensavo di passare al blu, che dite? È un bel colore, un bel colore. Mi ricorda, mi ricorda i puffi, quindi è un bel colore. Chiam. Mister Antipatia. Dicevi, scusa? Grazie mille. Grazie per i due mesi. Eh, ti dicevo. Non sono così fortuna. Grazie mille per la resums. Ha capito la battuta, il chat. Viene, viene. Eccola qua. Marco, che ne pensi di rigiocare? Accolgo, accolgo. Grazie, anche perché mi fai svuotare un po' di camera. Oh, mi avete rotto. No, stronzo. Guarda un po'. Eh, che twist. E butto la pentola magica. No! Ah, che disfaccia. No, questa è sempre contro di me. Sempre contro di me. Te le ributta in mano. Ma che inculata. Mi è andata bene. E ho capito, ma erano meglio le altre. Era meglio morire da piccoli. Cos'è il pari? TIEEMO! Eh, ora sta, ciao. No, dai! Ha detto Bruno. Disse Bruno, eh. Disse Bruno. E io invece faccio così. Non è un po' silenzioso, non è un procento di vincere, secondo me. No, invece secondo me sta proprio esquisitando qualcosa. Allora, stai zitto proprio perché sta per vincere. Cazzo, peccato, peccato. E ho vinto. No, 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 no. I full changer, dite tu. Sono arrivato ad aprirvi il culo. Dai, facciamo l'ultimissima che poi vado a mangiare. Che ora sono? Sì, dai, l'ultima. Eh certo, perché io sono bravo a giocare a livello 7. E ho fatto meno della metà delle partite che avete fatto voi in questa ora. Ma come cattò? Ma come non sei bravo? Secondo me... Questa è la mia partita, questa è la mia partita. No, è mia, non vedi? C'è scritto. Io già devo farlo. Ah, no, stronzo. Non c'è assolutamente bisogno. Andiamo così, allora. Beh, Robby, io ti lascio rilassata lì. Ah, va bene. Fai bene che la vedo un po' stanchina. La mano impegnata. Ma la mano impegnata. Maialina. Putta l'otto. Vabbè, gatto, fammi vedere un po'... Eh, ma che colore preferisci? Dai, preferirei il giallo in questo caso. E sai cosa ti dico? Che io ti sfido. Che secondo me sei un po' uno stronzo. Hai visto? Dai! Ostia, ostia. Che male! Grazie un po'. Tiè comunque, il giallo volevi e già lo hai. Sì, grazie. A me in giallo non piaceva. A me premeva quello, premeva. E intanto io i gialli li avevo finiti, adesso c'ho i rossi. Ma l'ha detto. E infatti ecco qua. È proprio vero. Guarda che ce l'ho uguale pure io. Ma anch'io ce l'ho uguale, ma dal colore diverso. Ah, c'è in giallo, c'è in giallo. L'otto? Eh, l'otto non ce l'ho invece. Ma che è inculata. Pensa, io Rai manche fa al vise. Ma Rai manche fa al vise. Anch'io ce l'ho. È l'uno. Fa dritto. Il cinque. Eh, non ce l'ho. Però faccio rigiocare Marco. No, io, gatto, è una questione di principio. È molto gentile perché io ce l'ho proprio Rai man di quel colore lì. Oh no. È già quello lì. Non è possibile. Ma c'era bisogno? Eh, magari trovi qualcosa per contrastare il Liezer, che ne sai. Eh, no, perché dall'altra parte del tavolo che cazzo vuoi che faccia. C'è una vergogna, Robby. E quindi Liezer ha vinto? Che imbarazzo, che imbarazzo, Robby. Non lo so, è indeciso. Sto aspettando l'ultimo per vincere, guarda. Ah, che twist. Che palle. Andiamo così, dai. Non ho capito su cosa hai ragionato. Dopo l'uno viene il due. No, però a rispondere al tre. Semplicemente. Dopo il due viene il pesco. Il pesco. Il famoso albero. Dei alberi. Il famoso albero, sì, sì, sì. Ma non c'era bisogno comunque, eh. Ogni volta ho capito cosa ti ho fatto. Eh, ma non lo so. Proprio il verde vuoi, va bene. Che schifo il verde. Guarda, non ti sfido perché secondo me... Hai fatto bene. Eh. Eh, che cu... Grazie Marco, porca troia. Vedrai. Tranquilo, tranquilo, sono qua posta. Se c'è un cambio turno, Marco lo sei morto. Eh, però Marco sta vincendo, eh. Ma ancora? Cos'è questa roba qua? Cos'è quella roba? Il bastino sul verde vuole. Non può avere... Cioè, sarebbe scemo. Eh, vabbè, niente, Jezza, tocca a te, fai tu. Perché mai avresti dovuto fare questa cosa? Perché non ho altre carte verdi. E quindi ha vinto quello lì, per colpa vostra. Perfetto, bravi. Non è vero, scherzavo, ho vinto, ciao. No, c'è il cambio turno. Che infame. E vince. E vince. E vince. E vince il grandissimo. Aveva, alla fine, aveva due cambiatori. Che ti devo dire? Per colpa vostra, comunque. Mi chiamo l'uomo del change. Avevo due carte che changeavano. Che ti devo dire? Va bene. Quindi, amici. Buona giornata a tutti. Grazie mille e grazie al cacchio anche per... Eh, vi ho aperto il culo, comunque. Sono arrivato impetuoso. E niente, io quindi vi ringrazio per questo... Allora, questa livex. Ricordatevi, stasera cambio radio noi gatti. Del change. Del change, infatti. Esatto, gatto 2021, noi 2021. Esatto, e domani Pathfinder. Esatto. E domani Pathfinder. E oggi, come dice il video, normale. Ciao, bellissimi. Ci sono anch'io oggi, poverini. Bella giornata, eh. Oggi che bella. Esatto, è passata anche dalla Nobel L5 per la live. Chiudo la live, quindi? Eh sì, ci potete di chiudere. Non lo so, perché sto ancora attendendo. Vorrei essere... Sono un po' titubante. No. Questa non lo so...